Ragazzi, ci troviamo in Cartegna e oggi sopravviveremo. Andai al prossimo 8 Falcon Bear! Ragazzi, ragazzi, se sta facendo buio dobbiamo trovare un riparo, aspetta, troviamo un riparo. Questi, questi rami potrebbero andare bene. Le prendo uno. Andiamo, vai andiamo avanti intanto. Vieni, non mollare. Aspetta, questo sasso potrebbe andare bene. Le prendo uno. Andiamo. Vaffanculo! Prendiamo questo ramo che ci può servire per fare fuoco, per fuoco. No, pesa troppo, pesa troppo. Robi! Pesa troppo. Robi! Robi! Mi ha fregato i buttani. Questo ci può servire, andiamo. Aspetta, ragazzi, acqua. Acqua. Non ci serve una sede. Potremmo prendere quest'acqua. Robi! Un ramo distrutto! Un ramo distrutto! Va fatto a bollire. Va fatto a bollire. Pescezzi dentro. Andiamo. Andiamo. Proseguiamo. Un elicottero! Aiuto! 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 L'abito, segni di civiltà. Segni di fumo, ragazzi. Facciamo la fontana di cittadini. Facciamo il segnale di fumo. Prendete un accendino, una sigaretta. Che vuoto uno spazzatore? Andiamo avanti. Sono delle impronte di Dinosauro. Guarda! Guarda! Delle impronte di Stambecco! Andiamo avanti. Proviamo a cazzarlo. Potremmo cazzarlo. Questo può... Guarda. Questo... No, questo è troppo questo. Questo sì. Guarda. Somma, questo potrebbe servirci. Questo potrebbe servirci. Possiamo uccidere un cinghiale. Questo è ricco di proteine. È una foglia di olivo. Potrebbe servirci. Questo può essere sempre bene. Porta bene. Prendiamo dei legni. Ci facciamo la cappanina. Ci riscordiamo. Per tutta la notte. Così, basta. Basta, guarda. Mettine un altro di là. Guarda, abbiamo il fuoco tutta stanotte. Così. Robby, Robby, dimmi. Robby! Robby! Non è colpa mia. Mettino giusto. Mi sono andati a chiudere. Fa, fa, fa. Sta, sta. Sta. Ok. Sto freddo al culo, però. Scaldiamoci. Il caldo, il caldo ci serve. Non solo per... Ora, ora dobbiamo... Guarda, fa un culo spinza. Io cado qua. No, si è spento il culo. Robby! Andiamo. Andiamo. Un po' cake. Questa ci potremmo servire. Ci mangiamo un anno. Uuuuuh. 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 Uuuuh. 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 Uuuuh.